Sì, si fanno battaglie ideologiche, ma non nel modo violento, minaccioso che Salvini ha utilizzato. Questo in politica non si fa, se una persona è onesta. E questo io personalmente non... Ma lo fa parte del lagone politico e della sensibilità di ognuno, professoressa? Io sto parlando di contenuti e di leggi. Andare minacce fa parte del lagone politico, della lotta politica, ma andare minacce? Andare sotto casa di qualcuno a minacciare? Questo è parte? No, no, sto dicendo che sta alla coscienza di ognuno. Io non l'avrei fatto, ma sta alla coscienza di ognuno. Ecco, ma lei è onesto e dovrebbe dire che questo non è una battaglia ideologica. Questa è un modo fraudolento di cercare i voti degli elettori. Detto questo, è anche plateale, evidente, il fallimento di quelle promesse. Perché prima era cancellare, primo atto quando sarò in Consiglio dei Ministri. Quanto c'è stato Salvini in Consiglio dei Ministri come ministro, vicepresidente e così via. Quanto c'è stato? E perché non l'ha fatto? Allora questo uno dovrebbe dire o è incapace oppure era mezzognero. Eppure non si può fare.